Vuoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da partima su fornet? Molto semplice, iscriviti al canale e attivate la campanella, lascia un bel like e condividi con tutti quanti i tuoi amici ed infine mandami la richiesta sull'accanto dove faccio i regali. In questo modo avrete le possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da partima su fornet ed inoltre se vuoi puoi anche inserire nel negozio oggetti il mio codice creatore e mandami la foto tagami su instagram così ti andrò a ripostare. Benvenuti a tutti in questo nuovo video e benvenuti finalmente una nuovissima skin Stradicone sta per arrivare qui all'interno di fornet. Infatti all'interno di questo video come te ben potuto leggere dal titolo andremo proprio a vedere nel dettaglio tutte quante le informazioni sul nuovissimo evento e la nuovissima collaborazione tra fornet e lebron james. Proveni a cominciare col video mi raccomando vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici così anche loro vengono a scoprire tutte quante queste info su questa nuovissima collaborazione, questo nuovissimo evento tra fornet e lebron james. Quindi partiamo subito e appunto già in passato vi parlai di questa collaborazione tra fornet e lebron james perché benessi la epic già nel 2020 voleva implementare questa nuovissima collaborazione insieme a questo famosissimo personaggio. Poi purtroppo sembrerebbe che l'abbia rimandata e finalmente è arrivata in questo 2021 infatti come te ben vedere ci troviamo proprio qui sulla pagina ufficiale che sia proprio il re è arrivato lebron james entra nella serie icone di fornet. Ecco qui la skin di lebron james avrà ben la skin principale poi questo dovrebbe essere uno stile secondario e questa forse dovrebbe essere una skin a parte ma adesso andremo a vedere tutto quanto nel dettaglio. Incominciamo subitissimo a leggere l'articolo fatto da epic. Quindi partiamo subito il re è arrivato lebron james entra nella serie icone di fornet quindi una nuovissima skin una nuovissima versione serie di icone finalmente è arrivata qui all'interno di fornet. Dal team di fornet MVP icona a livello mondiale medaglia d'oro fresco fresco di toon squad non so come si pronuncia scusate lebron james porta tutta la sua storia nella serie di icone di fornet. Abbiamo anche il trailer che vi ho messo in inizio video quindi già l'avete visto un trailer molto molto bello e ci va a vedere come lebron james arriva all'interno dell'isola di fornet e continuiamo a leggere. In arrivo sul negozio oggetti il 14 di luglio quindi non domani per noi perché il 14 di luglio intende appunto il 14 di luglio in america che per noi sarà già il 15 quindi questa skin per noi che siamo in italia uscirà giovedì nello shop quindi nello shop di giovedì la leggenda del basket arriva con due diversi costumi entrambi con le nike lebron 19 la prossima scarpa personalizzata di re james qui in pratica questa skin avrà anche delle scarpe firmate ci sta comunque eccole qui davvero molto molto belle. In anteprima fornet le nike lebron 19 delle scarpe super super belle. Comunque look di lebron elegante e imponente il costume di lebron james combina gli elementi migliori del suo personaggio prima e durante la partita include il costume di lebron james e il dorso decorativo del re in persona. gli occhiali da sole facoltativi ecco qui in pratica tutto quanto il set diciamo la skin di lebron james il costume di lebron james include anche il dorso decorativo del re quindi puoi anche completare il tuo look con il bundle attrezzatura di re james include piccone il leone deltaplano apertura alare di tici avversari con l'energetico festeggiamento sul campo di lebron il silenziatore quindi oltre alla skin e anche al suo stile abbiamo le mot abbiamo il backpack che sono queste ali abbiamo il piccone con due stili differenti stile diciamo nero e dorato e stile completamente nero e poi abbiamo anche un altro stile per il backpack lo stile nero comunque ci sta tutto quanto il setto. ma non è finita qui perché ascoltate bene in questo punto costume dorso decorativo piccone il leone e deltaplano apertura alare di lebron offrono un cursore di modifica con cui ottenere 20 diverse varianti dorate del tuo costume guardi il filmato qui sotto per scoprire come il cursore può migliorare il tuo look quindi in pratica andiamo a vedere con questi oggetti che ci vengono dati possiamo almeno troviamo nel nostro armadietto un cursore dove possiamo modificare il colore dell'oro praticamente una cosa del genere andiamo a vedere guardate qui possiamo aumentare e diminuire il colore dorato quindi molto molto interessante questa nuova funzione magari verrà implementata anche su altre skin guardate qui praticamente nel nostro armadietto troveremo questa sorta di editing e possiamo aumentare fino a 20 diverse rarità di oro fino a 23 per la precisione guardate qui quindi ci sta comunque possiamo aumentare l'oro tutte quante le ali fino ad arrivare in questo punto fatevi sapere se vi piace questa nuova funzione a parer mio ci sta davvero tutta per questa nuova skin di lebron james andiamo avanti siete pronti per la jam offerti separatamente i giocatori possono indossare i panni di lebron nella toon squad in anteprima sul nuovo film di animazione mista space jam new legends quindi in pratica sarà anche questa nuovissima skin di lebron james nella versione del nuovo film space jam quello la che è appena uscito da pochissimo tempo continuiamo ancora a leggere quando non c'è da giocare lebron sa sempre come rilassarsi il costume toon squad di lebron include anche la variante marteditaco e il dorso decorativo zaino supremo e guacamole per tutti ecco un altro stile ancora il costume marteditaco di lebron james include un paio di nike lebron 19 speciali poi abbiamo ancora altre cose questo articolo infinito non riesci a scegliere il tuo look per lebron il bundle re james raccoglie tutti i costumi e dorsi decorativi più sopra e aggiunge la schermata di caricamento nobiltà in campo ecco anche la schermata di caricamento poi ne vediamo un po' scopri tutti quanti gli oggetti di lebron sul negozio a partire da mercoledì 15 luglio alle ore 2 italiana quindi per noi sarà il 15 di luglio perché appunto siamo delle ore avanti in america quindi il 15 di luglio alle 2 ore italiana sarà disponibile nell'item shop di fornet la skin e il set completo di lebron james che ci viene immortalato in questo punto quindi fatemi sapere se voi andrete ad acquistare ma raccoglie se lo acquistate utilizzate il codice creatore da cini così potrete andarmi a supportare comunque ricordo 15 luglio ore 2 italiana quindi giovedì appena esce il cambio dello shop quindi questo è tutto per questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovissimo set collaborazione evento tra fornet e lebron james se vi piace per il mio ci sta tantissimo come collaborazione mi piace tantissimo potrei anche andare ad acquistare questa skin e c'è anche questa nuovissima funzione di aumentare praticamente l'oro con questa specie di editing nel nostro armadietto io spero questo video vi sia piaciuto ma soprattutto vi sia stato di aiuto se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividete con tutti quanti i vostri amici così anche loro vengono a scoprire tutte quante queste info sulla nuovissima collaborazione tra fornet e lebron james in questo momento a schermo sarete anche vedendo due video quindi cliccate su quello che vi interessa o preferite di più e noi ci vediamo all'interno di uno di questi video